Andare oltre gli schieramenti destra-sinistra con l'obiettivo di promuovere una rete di amministratori che possa fare del buon governo la propria stella polare. In città per sostenere la candidatura di Gianluigi Cassandra, il sindaco di Verona e segretario nazionale di fare, Flavio Tosi, indica la rotta per la città di Salerno. Le campagne elettorali per le amministrative secondo me sono le più belle. Io sono sindaco da quasi nove anni, ho rinunciato a stare in Parlamento europeo per continuare a fare sindaco della mia città, proprio perché è il ruolo dove puoi fare qualcosa. In politica non sempre riesci a fare quello che ti proponi, se il sindaco è capace riesci a cambiare le cose. Il porto, devi usare il porto, il retroporto, fare logistica. Verona è ricca anche grazie alla logistica. Il Mediterraneo è una fonte enorme di ricchezza sfruttando bene la portualità, la logistica. Non è mancato poi un riferimento all'ex sindaco Vincenzo De Luca, a cui l'esponente politico veneto non ha mai fatto mancare la propria stima. Vincenzo De Luca io ho stima personale perché lo conosco da molti anni e la stima come amministratore rimane, però adesso non c'è Vincenzo De Luca candidato. Adesso ci sono dei candidati fra i quali scegliere e secondo noi siccome oggi serve senso pratico, un approccio molto diretto ai problemi e un rapporto diretto con i cittadini e Gigi Cassandra secondo me ha questo profilo perché serve veramente, il sindaco bisogna saperlo fare, è un ruolo complesso, norme sempre più complicate, soldi sempre meno e quindi bisogna essere davvero capace di farlo perché la scelta del sindaco non la devi più fare perché è di centrodestra, perché è di centrosinistra, perché è del mio partito. Il sindaco devi scegliere chi è capace di farlo.